Il caldo aumenta e gli incendi non concedono tregua a Roma e provincia, spesso di natura dolosa. Uno di vaste proporzioni si è sprigionato nel primo pomeriggio nella zona di Monte Mario, vicino al tribunale di Piazzale Clodio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, mentre la polizia ha chiuso le strade d'accesso alla zona della panoramica e del trionfale, anche attorno allo Stadio Olimpico, per consentire ai soccorritori di arginare il fronte del rogo, che minaccia anche alcune abitazioni. Un'area, quella interessata dall'incendio, spesso al centro delle polemiche e delle denunce dei residenti, per il degrado causato in particolare dalle baraccopoli, che vengono sgomberate e poi puntualmente ricompaiono. È stato richiesto anche l'intervento di mezzi aerei, con gli elicotteri che si riforniscono di acqua direttamente nel Tevere. Si teme anche che il rogo possa provocare danni all'ecosistema. Al momento non risultano feriti, non ci sono ordini di evacuazione per i residenti delle zone vicine, anche se un'alta colonna di fumo nero si alza dalla zona visibile per chilometri. La procura di Roma ha effettuato un sopralluogo. Il magistrato attende un'informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine intervenuti sul posto per ricostruire l'origine di questo Maxi Rogo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.